Ambientato in una parigida epoca, un intrigante e misterioso giallo, il noto commissario Bertin E la bella figlia Sofì, alle prese con un pericoloso farabutto, ma aiutato da coraggiosi gendarmi. Nello splendore del cinemascope, la Ecifilms Productions presenta Un giallo mozzafiato, dal regista di Dottor Jones, La lunga estate del commissario Bertin. A Pasqua, al cinema. A Pasqua, al cinema.